Questi sono i manubri più venduti, i Bowflex Select Tech 552i. Se desideri veramente creare massa muscolare e tonificarti, i manubri a carico variabile più venduti al mondo sono fatti per te. I manubri 552i sostituiscono un intero set di 30 pesi liberi. Girando semplicemente la manopola, puoi regolare il peso da 2 a 24 kg e passare rapidamente da un esercizio all'altro, eseguendo una serie infinita di esercizi per tutto il corpo. Tonifica le braccia con i curve dei bicipiti, d'afforza le gambe con gli affondi e squat e rinforza i vettorali con le spitte. Le opzioni sono illimitate. Per ottenere i risultati migliori da manubri Select Tech 552i, scarica l'app di allenamento gratuita Bowflex Select Tech, disponibile per i dispositivi iOS. Monitora manualmente i risultati e accedi ai video di allenamento adatti per tutti i livelli di fitness. Infine, prova a combinare i manubri 552i con una panca regolabile Bowflex per svolgere un numero maggiore di esercizi e con il supporto Select Tech, una piattaforma comoda e poco ingombrante per tutti i tuoi esercizi. Un allenamento completo per il corpo, grazie al sistema a carico variabile. Questi sono i manubri Bowflex Select Tech 552i. Comment? Grazie a tutti. Sono i manubriunion da 8GO e sono i manubri DAVID